Ciao a tutti, oggi è lunedì 1 agosto, ci prendiamo una settimana di stop, di stop diciamo dalla pubblicazione dei video e quindi giusto per chi vuole continuare a stare insieme a noi ha la possibilità di seguirci tramite il sito genovainvestimenti.it dove tra l'altro trovate veramente tanta roba, mi devo fare i complimenti da solo perché se uno va dentro questo sito trova veramente di tutto, oltre questi famosi più di 200 video. Il lunedì sarebbe stato il giorno dedicato ai tempi cambiano classico quindi tante puntate trasmesse in Imperia TV negli anni passati, in molte riviste corrette, oppure mi potete trovare tranquillamente su YouTube, anche su YouTube ci sono tutti i link di collegamento tramite genova investimenti, tramite Giorgio Rocca e quindi avete la possibilità di scegliere addirittura su due playlist quella dei tempi campi e da quella di Genova Investimenti. Seguitemi e ci vediamo comunque in tutti i modi lunedì della prossima settimana che ritorniamo con i classici canali dal lunedì al venerdì. Ciao a tutti e buone ferie per chi fa le ferie. Ciao